Ah! Perché? Perché ti ride? Si trova là! Ah! Lo faccio colgare a Giotto! Eh? A Giotto! A Giotto? Dove si ricerca la musica, la suoneria e la musica tutti quanti! E poi c'entro io! Eh, faccio e dico, vabbè, questa è una ragazza che fa finta che sta a lavorare! Dai! Dai! Eh? 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 Hamburger! Dai, io ce! Ti prendi a rimanere, rimanere! Ti prendi a rimanere, mamma! Ti prendi a rimanere, mamma! Ti prendi a rimanere, mamma! Ti prendi a rimanere, mamma!